Oggi il PDL ha ricattato il governo per non avere una legge sulla incandidabilità delle persone condannate e ha ottenuto il suo scopo perché il governo ha fatto una finta legge sulla incandidabilità perché ha previsto che possono essere non candidabili solo quelle a condanne definitive per cui anche gli assassini di secondo grado possono andare in Parlamento e soprattutto perché ha previsto che la pena deve essere sopra i due anni e invece come sapete per la maggior parte delle pene anche contro la pubblica amministrazione anche per fatte di corruzione tra abbreviati e sconti di pena non si arriva quasi mai a due anni come al solito il governo si è piegato al ricatto di questo popolo della libertà ma soprattutto di questo Berlusconi che ha problemi di giustizia.